Ciao a tutti da Roberto di Smart Fanology, riprendono finalmente le recensioni, ma lasciatemi prima dedicare qualche minuto a qualche novità di Smart Fanology. Abbiamo introdotto recentemente una nuova funzionalità chiamata Telki per aiutare gli utenti a trovare lo smartphone più ad alto alle proprie esigenze, compilando un questionario. Dopo questa rapida introduzione, finalmente riprendono le recensioni, oggi con me c'è Vivo X60 Pro 5G, 5G, un telefono che è stato presentato a maggio del 2021, almeno per il mercato italiano, in realtà è stato anticipato in Cina, come sempre capita, specialmente con i brand cinesi, qualche settimana prima e segue l'arrivo di Vivo X51 5G, che invece è arrivato sulla finire del 2020, sempre in Italia. Vivo, nella sua esperienza, ha sempre cercato di introdurre sul mercato telefoni che abbiano grandi prestazioni in ambito fotografico, tant'è che Vivo X60 Pro 5G è stato co-ingegnerizzato con Zeiss. La fotocamera principale da 48 megapixel dispone della stabilizzazione di gimbal. Vivo sta facendo un grande lavoro per diventare un brand sempre più popolare, va forte in Cina, anche se recentemente è stata scalzata da Apple, per quanto riguarda la prima posizione nelle vendite, nelle spedizioni, anzi, almeno per la Cina, e sta cercando di diventare sempre più popolare anche a livello globale, basti pensare a tutte le varie sponsorizzazioni del brand con gli europei dell'anno scorso e i prossimi mondiali che si terranno quest'estate. Inoltre è anche titolo sponsor della serie A di pallavolo femminile italiana, quindi, insomma, cerca di diventare come brand, di affermarsi come brand in modo sempre più determinato. Abbiamo inoltre un cashback che è stato introdotto pochi giorni fa per quanto riguarda Vivo X60 Pro 5G, Vivo VIP 21 5G che abbiamo recensito il mese scorso, e Vivo Y72 5G, un cashback che arriva fino a 100€ per quanto riguarda Vivo X60 Pro 5G, ma io non mi dilungo oltre e vi do appuntamento subito dopo la sigla per scoprire tutte le mie opinioni per quanto riguarda Vivo X60 Pro 5G. Ed eccoci dunque a parlare di Vivo X60 Pro 5G. Come hai detto prima, è stato annunciato per il mercato italiano a maggio del 2021 ed si è introdotto sul mercato a prezzo di 799€. Attualmente non posso dire il prezzo perché dipende da seconda del retailer da cui viene venduto su Amazon, non è ancora disponibile sullo store di Vivo, io presumo che possa costare sempre intorno ai 600-700€, trattandosi di un top di gamma. In più si può usufruire del cashback di Vivo di 100€. A parte ciò è un telefono appunto di fascia alta che viene pensato principalmente per un utilizzo fotografico, tant'è che è stato co-ingegnerizzato con ZEISS, le ottiche sono ZEISS, ma prima di parlare del lato fotografico andiamo a parlare un po' del telefono. arriva nelle dimensioni di 158,6 x 73,2 x 7,6 mm di spessore, dà una sensazione un po' affilata ma conferisce una sensazione di robustezza e solidità piacevole impugnarlo anche se appunto sembra un po' affilato in virtù della sua vero ridotto spessore. È costruito in vetro satinato nella parte posteriore e alluminio nelle cornici. Rimangono un po' le ditate, non è esente, le ditate sia nella parte posteriore sia nella parte anteriore. Abbiamo la fotocamera che sporge un po'. C'è nella confezione, oltre ad un paio di cuffie ben gradite, c'è questa cover rigida, una cover rigida che però non offre una grande protezione, aumenta sì il grip, ma chi l'ha usato prima di noi deve essere caduto e quindi ci sono un po' di segni ai bordi del display, segno che è una cover che non protegge più di tanto. Ma a parte questo non è scivolosissimo, nonostante il vetro, nonostante sia costruito in vetro e alluminio, certo conferisce una sensazione premium impugnato, ma ha questo design che è sempre contraddistintivo di Vivo, è molto sobrio, è molto piacevole, adatto ad ogni occasione. Certo è che non ha una grande differenzazione rispetto a tutto il portfoglio di prodotti di Vivo, infatti tendono ad assomigliarsi tutti, sia la fascia premium, sia la fascia media, sia la fascia entry level, e questo è un po' un limite del design di Vivo, che è sempre piacevole, sempre molto sobrio, ma mi piace dire che non si allenta mai la cravatta, sarebbe carino trarsi magari a dei design un po' diversi, un po' più accattivanti, non che questi siano belli, ma sono sempre un po' troppo simili l'uno dall'altro. Continuiamo a parlare del dispositivo che pesa soli 179 grammi, ha un display AMOLED con refresh rating rate da 120 Hz, impostabile anche a 60 Hz, però si può anche scegliere l'opzione di rendere il passaggio da una frequenza di aggiornamento all'altra automatica, inoltre c'è il supporto HDR10+, abbiamo un display da 6,56 pollici full CD+, con risoluzione da 2376x1080 pixel. Andiamo a vedere un po' le costruzioni del telefono, nella parte destra abbiamo un tasto di accensione, sgrinato facilmente individuabile, e il bilancer del volume, nella parte inferiore abbiamo uno slot per contenere due microSD, la USB Type-C e uno speaker di sistema. Lo speaker è mono, di buona qualità, obiettivamente su questa fascia di prezzo si può richiedere qualcosina di più, anche audio stereo, non è un telefono che nasce per offrire elevate prestazioni per quanto riguarda l'audio, ma è comunque un buon audio, peccato sia appunto mono, liscio il lato sinistro, e liscio la parte superiore, che adesso stiamo facendo un po' di fatica a mettere a fuoco, ma ha questo interessante scritto a Professional Photography, in virtù anche della collaborazione con Zeiss. Continuiamo a parlare delle caratteristiche, sotto al pannello abbiamo il sensore di impronte digitali, molto facile e reattivo da individuare, è molto veloce, si sblocca in un attimo tramite l'impronta digitale, abbiamo anche nella fotocamera anteriore, contenuta in un foro, 32 megapixel utile anche per il riconoscimento del volto, un riconoscimento del volto molto reattivo, veloce, che non riconosce il volto, però con la mascherina indossata, non abbiamo la possibilità di espandere la memoria, e non abbiamo il jack audio. Sotto al pannello abbiamo lo Snapdragon 875G, che offre connettività appunto alle reti di nuova generazione, e alte prestazioni. Abbiamo inoltre 12 GB di RAM, e 256 GB di storage. Usare il telefono, insomma, in qualsiasi contesto è piacevole, al massimo delle capacità del display, si potrà anche giocare con un'ottima esperienza. Abbiamo anche la modalità ultra gioco, attivabile dal pannello dei toggle, grazie anche ad un display molto piacevole, come detto prima, però un po' sensibile alle ditate. La batteria è da 4200 mAh, un po' ridotta rispetto alla concorrenza, per via delle linee sinuose e snelle di Vivo X60 Pro 5G, però c'è da dire che offre una giornata intera di autonomia, anche con un utilizzo intenso. Va detto che, dopo l'aggiornamento all'Android 12, a Fan Touch OS 12, il telefono nelle prime ore, ma solo nelle prime ore, è apparso un po' più appesantito, ma poi si è ripreso praticamente subito, e ho notato anche, abbiamo notato anche un aumento dell'autonomia. Quindi si arriva sempre, fino a sera, con un po' più di autonomia residua. I due giorni non siamo mai riusciti a completarli, ma si può arrivare tranquillamente a sera, anche con un utilizzo intenso, la ricarica inoltre da 33 W. Nella parte posteriore abbiamo una fotocamera principale da 48 megapixel, una fotocamera secondaria e una fotocamera grandangolare e una tele da 13 megapixel con zoom ottico 2x. La fotocamera principale è inoltre la stabilizzazione gimbal che abbiamo visto anche su Vivo X51 dello scorso anno, anzi di un anno e mezzo fa. Le immagini andremo a vederle subito, e come al solito vi invito a consultare il link in descrizione per andare a vedere la recensione scritta e di conseguenza anche le foto scattate con Vivo X60 Pro 5G. Le foto sono in genere omogenee con tutte e tre i sensori, non abbiamo però sempre foto fedeli alla realtà, abbiamo spesso colori che sono un po' più saturi, molto elevato il contrasto, ma andiamo a vederle subito. Questa scena è stata scattata di giorno in una situazione un po' difficile, ovvero incontro luce, ma paradossalmente abbiamo avuto performance migliori rispetto a situazioni di luce un po' diverse, ma con tanta luce. Comunque, questa è la fotocamera grandangolare, la fotocamera standard e la fotocamera zoom. Abbiamo quindi colori un po' intensi, un po' saturi, insomma non è sempre molto. a vedere alla realtà la resa dei colori nonostante l'intervento di Zeiss nella realizzazione delle ottiche. Il mio consiglio è quello di disattivare comunque la funzionalità HDR e IA perché non aiutano sempre nell'ottenere immagini fedeli alla realtà. Queste sono altre immagini scattate sempre con le tre fotocamere, abbiamo sempre una resa molto omogenea, però sempre molto satura. In questa serie di foto vediamo come il software tende ad andare un po' in crisi quando la luminosità è abbondante, abbiamo la fotocamera grandangolare, la fotocamera standard e la fotocamera zoom. Abbiamo sempre un contrasto non sempre fedele, così come la colorazione, la resa e dunque la tonalità, lo stesso vale per la fotocamera standard e lo stesso vale per la fotocamera zoom. Abbiamo, penso, una migliore esposizione a fronte però di un contrasto non sempre ben equilibrato e la colorazione sempre molto satura. Niente che non si possa risolvere con un'app di editing, però certo è che mi aspettavo un po' di più da una collaborazione con Zeiss. Questa è la foto ritratto, molto bene la sfocatura, molto bene la nitidezza, come tutte le foto scattate con Vivo X60 Pro 5G, va detto questo, c'è una buona nitidezza di fondo ma soffre un po' i colori un po' saturi e soffre un po' l'eccessivo contrasto delle immagini. Bene, di sera abbiamo sempre un po' di rumore digitale, però le immagini sono buone, soffrono sempre delle stesse caratteristiche delle immagini di giorno, ovvero un po' sature, un po' troppo contrastate, ma sono in linea di massima delle buone e foto. Non è il miglior camera phone presente sul mercato, forse è quello che vuole fare il camera phone, ma ad un prezzo un po' inferiore rispetto agli effettivi camera phone dei competitor, però insomma mi piace dire che questo telefono va bene per chi ha bisogno di un telefono che faccia ottime foto, ma non va bene per chi ha un occhio fotografico, particolarmente critico. Questa è la foto macro, molto bene la macro, bene la sfocatura, ma abbiamo sempre dei colori un po' troppo saturi. In particolare il contrasto si vede di più sulle foto grandangolari. Per quanto riguarda la fotocamera standard della zoom, abbiamo invece foto un po' più fedeli a seconda del contesto, diciamo che la minor qualità si trova sulla fotocamera grandangolare, ma chiaro dipende sempre dalle condizioni di luce. Cosa dire insomma di Vivo X60 Pro 5G? È un telefono che si propone come camera phone, ma non è il miglior camera phone attualmente sul mercato, nonostante l'aggiunta, il valore di un brand come Zeiss che ha contribuito nella ingegnerizzazione di questo telefono. Quindi buone foto, non le migliori, il prezzo è un po' elevato anche in virtù delle mancanze di questo telefono, ad esempio non abbiamo il jack-out, non abbiamo la possibilità di espandere la memoria e non è resistente all'acqua, ma non è questo un problema perché basterà fare attenzione a non portarlo in acqua o a non immergerlo senza motivo. È un telefono quindi sì costoso. Quando è stato presentato abbiamo ovviamente le NFC, abbiamo un Bluetooth 5.1, attualmente, ripeto, non ho dati per capire il prezzo a cui attualmente si propone questo telefono, dipende dai vari retailer, certo è che c'è sempre il cashback di Vivo di 100 euro che può rendere questo telefono un po' più appetibile mentre si aspetta la nuova generazione di smartphone top di gamma di Vivo. Quindi un telefono molto piacevole, sobrio, dato ad ogni contesto grazie alle sue possibilità di essere utilizzato sia in ambito gaming sia in ambito fotografico, non il miglior camera phone, ma un telefono molto prestante e attualmente aggiornato all'Android 12 e alla FanTouch OS 12. Per Vivo X60 Pro 5G è tutto, io sono Roberto, vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima recensione e vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link utili per approfondire tutte le caratteristiche di X60 Pro 5G di Vivo. Ciao e alla prossima, Roberto.